Tudor Black Bay Lunetta Verde, eleganza e innovazione. Il Black Bay Lunetta Verde è un orologio da polso che si distingue per il suo design audace e distintivo, che combina una lunetta verde girevole unidirezionale con una cassa in acciaio e un quadrante nero o verde, a seconda della versione. La lunetta verde cattura immediatamente l'attenzione, conferendo all'orologio un aspetto dinamico, e un tocco di colore. La cassa in acciaio o oro giallo, le lancette luminescenti e gli indici ben definiti rendono il quadrante altamente leggibile, sia in condizioni di luce che di buio. Il Tudor Black Bay Lunetta Verde è resistente all'acqua fino a 200 metri di profondità, il che lo rende un compagno ideale per chi ama le avventure sott'acqua. La lunetta ha una scala graduata da 0 a 60, con un punto luminoso a ore 12, che facilita la lettura del tempo anche in condizioni di scarsa visibilità. La versione dal quadrante nero ha una cassa e un cinturino in acciaio inossidabile da 41 mm di diametro, che le conferisce un aspetto robusto e sportivo. Il quadrante nero ha una finitura lucida, che crea un contrasto con la lunetta verde opaca. Il quadrante mostra le lancette e gli indici color oro riempiti anche questi con una sostanza luminescente bianca. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro piatto, che aggiunge un tocco di sobrietà all'orologio. Il quadrante presenta alcune scritte che evidenziano le caratteristiche dell'orologio, a ore 12. Il logo Tudor con la scritta GENEV, che indica la sede del marchio, a ore 6. La scritta 660 piedi 200 M, in verde, che indica la resistenza all'acqua dell'orologio, e la scritta Cronometer Officially Certified, in oro, che indica che l'orologio è certificato COSC, ovvero che ha superato dei rigorosi test di precisione e affidabilità. La versione dal quadrante nero ha un cinturino in acciaio inossidabile con maglie a tre elementi, che garantisce una vestibilità confortevole e sicura.